Cosa chiede il narcisista? Cosa chiede da una relazione? Partiamo dal presupposto che il narcisista non sa parlare d'amore. Vorrebbe dall'altro qualcosa che non sa chiedere. Non è capace di nominare ciò che vuole, in quanto non conosce la grammatica dell'amore, non conosce la grammatica dei sentimenti. Infatti la relazione affettiva per il narcisista è cosa piena di mistero e di paura. Il rischio che corre è quello di sentirsi frammentato e spezzettato, quindi il narcisista scappa, scappa di fronte all'irrazionalità del sentimento. Il sentimento non è un meccanismo regolabile come vorrebbe il narcisista. E così prova una grande angoscia di fronte a questo mistero che rappresenta il vuoto. Pensa di poter riempire questo vuoto angosciante collezionando persone, come se fossero oggetti. La sua infatti è una solitudine abbissale. Il suo è un universo vuoto. Il narcisista si dice che è una persona esiliata alla vita. Però non se ne rende conto. Questo è qualcosa di inconscio. Rimuove la sua disperazione e rimane arroccato nella sua falsa verità, senza mai poterla veramente superare, senza osare di uscire dai confini ristretti del suo piccolo io e il suo guscio. Tuttavia c'è sempre una speranza. Infatti se ci sono i presupposti e il narcisismo non è un tipo di narcisismo assoluto, allora quando l'amato o l'amata è accanto al nostro narcisista, uomo o donna che sia, tutto improvvisamente può risorgere. Tutto può prendere vita. Perché l'eros inonda di vita anche il narcisista. Quello più disposto al cambiamento. Molti altri video come questo nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata. Per richiedere una consulenza dovete scrivere un messaggio su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza, specificando nomi, cognomi e orari preferiti. Vi suggerisco anche di leggere i miei libri che si trovano solo su Amazon. Buona giornata.